Ciao ragazzi, allora per dar manforte a questo assurdo governo sta per arrivare un esercito di 60.000 assistenti civici. Di che si tratta? Allora, l'idea iniziale di quel genio incompreso di Francesco Boccia, il ministro per gli affari regionali, assieme al sindaco di Bari Antonio De Caro, che è anche il presidente del Lanci, associazione nazionale comuni italiani, era quella di dar vita ad un bando, aperto ad un massimo di 60.000 posti su tutto il territorio nazionale, per formare nel loro comune, appunto, gli assistenti civici. Si tratterebbe di persone, di cittadini, come tutti noi, che pattuglieranno le strade, le piazze e le spiagge in cerca di coloro che infrangono le regole di distanziamento sociale. L'obbligo di indossare la mascherina, il divieto di assembramento, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, in molti hanno bollato quest'idea per come era stata progettata inizialmente come una follia, e infatti è così, cioè veramente sembra un qualcosa pensato da una mente affetta da qualche funghetta allucinogeno scaduto, peraltro. Ma io, ripeto, non siamo di fronte a persone che si svegliano una mattina e scelgono di prendere una determinata strada per il semplice fatto che non sanno quello che stanno facendo, perché sono semplicemente impreparate nel lavoro che dovrebbero portare avanti. C'è dietro una precisa idea di società e di futuro, ed è quella che stiamo sperimentando, assaggiando in queste settimane. La soppressione delle nostre libertà individuali, l'app di tracciamento, il tentativo di recluderci in casa, il fatto che invece di mettere liquidità nell'economia reale bisogna andarci ad indebitare sempre nelle banche. Insomma, tutto questo messo insieme dà vita ad un futuro distopico, che tanto distopico non è perché fondamentalmente è qualcosa che stiamo veramente vivendo in questi giorni, ed è un qualcosa che dovrebbe preoccuparci molto. Peraltro, questi assistenti civici si andrebbero ad inserire in una situazione di degrado e di rabbia sociale che veramente sta arrivando a livelli preoccupanti. Pensiamo al fatto che non sono arrivate molte casse integrazioni, i soldi dell'Inps, anche quelli in molti li stanno ancora aspettando, tante attività non hanno rialzato la saracinesca, non solo per queste limitazioni assurde, ma anche perché appunto mancano i soldi. Mancano i soldi per pagare i dipendenti, mancano i soldi per pagare le bollette, mancano i soldi per pagare i commercialisti, mancano i soldi insomma per sopravvivere. A tutto questo si aggiungono anche i debiti con le banche, appunto, i famosi 400 miliardi di bodenza di fuoco, che altro non erano che garanzie per pressi di bancari. Uniamo tutto questo, ovviamente c'è una rabbia e un disagio sociale che sta crescendo e in questo metterci degli assistenti civici, cittadini come tutti gli altri, che però lavorano per rendere la vita delle persone ancora più difficile, andandole a denunciare alle forze dell'ordine, è ovvio che rischia di far deflagrare il tutto. D'altronde è qualcosa che abbiamo già visto nella storia, il famoso divide-timpera, che non funziona solo con i nemici esterni, i romani lo utilizzavano per tenere a bada le tribù oltre il Limes, fomentando le divisioni interne ai loro popoli, scagnandone uno contro l'altro, e così se li tenevano buoni evitavano che si mettessero insieme in un'unica compagine contro il potere di Roma. Ma questo funziona benissimo anche con i problemi interni ad uno Stato. Se c'è una dittatura, l'abbiamo visto nel Novecento, tante esempi del genere, una dittatura che vuole mantenere il controllo sulla popolazione, si avvale dell'aiuto di cittadini che lavorano per il potere. Un po' come diceva Morfeo a Neo nel film Matrix, ci sono delle persone che sono così legate al sistema che combatterebbero per esso. Ecco, l'assistente civico, per come è stato progettato all'inizio, da questa idea, insomma, di boccia e di decaro, avrebbe funzionato in questa maniera. Poi pare che sia arrivata, insomma, una mezza smentita, sia stato smussato, insomma, il tutto all'interno del governo, ma anche solo il fatto che sia stata pensata questa cosa, ci dice molto su chi ci sta governando e quale sia l'idea di futuro e di società che hanno questi personaggi. Peraltro l'assistente civico non prende alcuno stipendio, non ha potere di fare multe, quindi deve andare direttamente dalla forza dell'ordine e fare la spia, letteralmente la spia, è reclutato all'interno dei disoccupati, di coloro che stanno percependo il reddito di cittadinanza, prenderebbe al massimo una sorta di assicurazione garantita dall'Inail e lavorerebbe intorno ai tre giorni a settimana. Quello che ci stanno dicendo in queste ore è che si tratterà di persone che comunque aiuteranno i loro concittadini a procurarsi le medicine e quant'altro e questo sarebbe anche, come dire, qualcosa di nobile, di giusto, se non fosse che lo Stato dovrebbe avere i soldi per aiutare la propria cittadinanza senza dover fare, come dire, uso, dover chiedere una mano ai cittadini stessi. Io ad esempio quando vedo queste cose tipo Teleton, raccogliamo soldi per i terremotati, per i malati, gli dico sempre se ci fosse uno Stato libero di spendere la propria moneta per aiutare l'economia reale e i disagi della propria popolazione, queste cose non le vedremo, invece siamo abituati a mettere l'euro, i due euro per aiutare quello che dovrebbe fare uno Stato a sovranità monetaria, ma questo ovviamente è un discorso molto più complesso e molto più ampio. Comunque questo esercito di 60.000 assistenti civici speriamo che veda la luce al massimo nella maniera più, come dire, più leggera possibile, ma ripeto, l'idea che c'è stata all'inizio, partorita all'interno del governo di questa specie di polizia interna al popolo stesso, ci dice molto su quanto queste persone abbiano a cuore la democrazia e le nostre libertà.